Aumentano i contagi e vittime nella nostra regione, ma nonostante questo in tanti continuano a ignorare le misure di sicurezza anti-covid, tra assembramenti e locali aperti. Per questo motivo sono stati intensificati ulteriormente i controlli su strada delle forze dell'ordine per verificare il rispetto della normativa anti-covid, con particolare attenzione ai comuni della costa terramana dichiarati zone rosse, Roseto, Pineto e Silvi. Sono numerose le persone identificate e diversi anche i controlli fatti sugli esercizi pubblici nei circoli privati del territorio. Naturalmente i dati sono preoccupanti per quanto riguarda l'aumento esponenziale di contagi, non proprio nei contagi ma quanto più nella variante inglese, che abbiamo appurato che sono circa il 20% dei contagi totali. Ovviamente la situazione è strettamente monitorata da noi ma anche dal servizio sanitario. Ovviamente abbiamo fatto appello sicuramente a più controlli e maggior valutazione delle condizioni di assembramenti dei giovani e questo devo dire che c'è stata una pronta risposta da parte delle forze di polizia. Naturalmente l'appello che facciamo è sempre lo stesso, è quello di collaborare soprattutto con le famiglie perché non possiamo permetterci un aumento esponenziale sul nostro territorio. Indubbiamente le forze di polizia hanno messo in campo tutte le proprie risorse, dunque non è che possiamo chiedere di più. Ovviamente senza la collaborazione del cittadino e senza il senso civico di ognuno di noi non si potrà sicuramente scongiurare un aumento di casi ma soprattutto contrastare una pandemia ormai diventata devastante. Una situazione che preoccupa e su cui il sindaco di Silvia, Andrà Scordella, lancia un appello in particolare ai giovani. Sì, l'appello che voglio fare ai giovani è quello di essere coscienziosi, di un rispetto delle regole e delle norme considerando il fatto che non andranno a tutelare loro stessi ma soprattutto le loro famiglie con i tanti genitori, i nonni che hanno problematiche importanti e dunque rischiano sempre di più. Comunque l'appello è non fatelo solo per voi ma fatelo per tutti i vostri cari.